E allora mi sembra molto bello legare la parola di Dio con quella che è l'attività dei salesiani nel mondo. Direi proprio così che Don Bosco è stato un antisignano un po' della parola di Dio. Lui ha amato molto la parola di Dio, la leggeva, la comunicava ai giovani. Basta recarsi a Torino nella prima opera di Don Bosco, all'Oratorio di Torino, per vedere sotto i portici tutte le grandi scritte bibliche che i ragazzi potevano leggere. Don Bosco commentava la scrittura, anzi ci ha dato un libro molto bello intitolato La storia sacra, che serviva proprio per i ragazzi, per conoscere la Bibbia, per approfondire il tema della parola di Dio. Ecco, da questo amore che Don Bosco ha avuto per la parola di Dio, poi è nata tutta quella grande opera della catechesi che la congregazione, fin dall'inizio della sua opera, ha sviluppato a servizio dei giovani. Portare Gesù, la figura di Gesù, ai giovani attraverso la catechesi, un messaggio semplice, adatto ai giovani, adatto alla gente del popolo. Don Bosco in tutto l'arco della sua vita è stato sempre molto legato con la parola di Dio. Pensare che da bambino ancora, da giovane, mentre lavorava i campi, la mamma lo mandava a lavorare i campi, eccetera, insieme al fratello, cercava di trovare sempre il tempo dopo il lavoro, un tempo disponibile per poter leggere il catechismo, per poter leggere qualche libro anche di carattere religioso. Quindi la sua educazione religiosa è maturata intorno alla parola di Dio, fin da ragazzo. Poi amava radunare anche i suoi compagni per fare loro delle piccole catechesi proprio sulla parola di Dio. Prima li attirava attraverso i giochi, giochi di prestigio, giochi di acrobazia che lui faceva e i ragazzi erano molto contenti nel vedere il Giovannino Bosco molto capace di stare in mezzo a loro e poi dopo che li aveva così incantati, potremmo dire, proprio attraverso i giochi, lui li radunava per spiegare a loro qualche piccola cosa del catechismo. Quindi direi tutta la vita di Don Bosco, da ragazzo e poi soprattutto da seminarista, da giovane, poi da giovane sacerdote, è stato un grande amante della parola di Dio. Come la potevano approfondire alla fine del 1800, due secoli fa, quando Don Bosco viveva a Torino? Sapete che la Bibbia nella Chiesa era un po' riservata prevalentemente ai sacerdoti, al clero. La Bibbia non era data in mano al popolo di Dio perché si pensava che la Bibbia chi leggeva la Bibbia poteva di più avere contatto con il mondo protestante, era una cosa un po' in cui la Chiesa diceva stiamo attenti, ecco. Ma Don Bosco è stato sempre in questo, pur con quelle attenzioni da rivolgere ai giovani, cercato sempre di portare la parola di Dio in mezzo ai ragazzi.